Il parere non favorevole al bilancio di previsione 2023-2025, depositato nella tarda serata di martedì 3 ottobre dal Collegio dei Revisori dei Conti, come era prevedibile, è stata la scintilla che ha fatto divampare nuovamente lo scontro politico a Cava dei Tirreni, in vista del Consiglio Comunale previsto per il 12 ottobre. All'ottimismo ostentato da un lato dall'amministrazione, fa da contraltare la posizione delle minoranze, che attaccano Sindaco e Giunta. In particolare, sull'argomento, sono intervenuti con una nota congiunta Forza Italia, Fratelli d'Italia, Noi Moderati e Siamo Cavesi. Siamo intervenuti con gli altri movimenti e partiti di opposizione presenti in Consiglio Comunale e abbiamo, come dire, registrato che ancora una volta, perché non è la prima volta che gli atti di programmazione finanziaria o i rendiconti di questa amministrazione hanno il parere non favorevoli dei Revisori dei Conti. È successo con lo scorso collegio, è già successo con questo collegio. Io richiamerei l'attenzione su un altro fatto, al di là dei rilievi tecnici del Collegio dei Revisori. A Cava sta succedendo una cosa molto strana che io credo non si sia verificata mai da nessuna parte ed è quello che abbiamo scritto nella nostra nota. Noi abbiamo il responsabile dell'area economica finanziaria, funzionario di grande e comprovata esperienza, che si è dimesso durante la fase di preparazione di questo bilancio di previsione. Non sappiamo perché, ma si è dimesso. Noi abbiamo una Presidente del Collegio dei Revisori, dottoressa Catalano, che si è dimessa. Non sappiamo perché, non sappiamo chi le abbia chiesto di dimettersi, ma si è dimessa ed è andata via dopo aver dato un parere negativo sulle attività dell'amministrazione. Abbiamo un Collegio dei Revisori che si spacca tra un Presidente di nomina politica scelto da questa maggioranza per sostituire il Presidente Presidente che si era dimessa, non sappiamo perché, e i Revisori invece tecnici. In tutto questo, con una dimostrazione di arroganza che solo l'amministrazione di Cava riesce a dare, il Sindaco, i suoi assessori, esponenti di questa maggioranza, attaccano in una maniera in vera e conta delle persone che svolgono una pubblica funzione, che andrebbero criticate nel merito, invece di essere attaccate in questa maniera, e che fino a prova contraria stanno facendo solo il loro dovere. Temiamo che Servalli non si sbagli riguardo una cosa. Si legge nelle ultime battute del comunicato di Forza Italia, Fratelli d'Italia, noi moderati e siamo cavesi, quando cioè si dichiara sicuro che in Consiglio Comunale sarà approvato anche questo bilancio. E' l'unica cosa sulla quale il Sindaco ha sempre avuto ragione. Al peggio non c'è mai un limite. Lui si è detto sicuro che il bilancio passerà, e io su questo gli do credito. Purtroppo questo bilancio passerà anche così. Io non debbo richiamare certo l'attenzione, ognuno è in grado di farlo da solo, sulle responsabilità di carattere economico, patrimoniale, che se poi le cose non dovessero andare bene, e anche se questo bilancio dovesse essere smentito dai fatti, come è successo negli anni scorsi, sulle responsabilità che si assumono i consiglieri comunali. Non aspetta a me, mi limita alla responsabilità politica. Qui si continua a non prendere atto che c'è un'esperienza amministrativa, che oramai è giunta al capolinea da tempo, non da oggi, che non sta producendo più niente. Se non debiti, se non disorganizzazione, se non abbandono della città a se stessa. Se ci fosse ancora politica, i consiglieri di maggioranza ne prenderebbero atto. Invece quella che è scomparsa oggi dalla scena, grazie a questa amministrazione, dalla scena cittadina e la politica, si va avanti per inerzia, si va avanti per rimanere lì sopra al comune. Sulla vicenda è intervenuto anche il movimento politico La Fratellanza con un'apposita nota. Da una prima disamina si evidenziano fattori di squilibrio che fanno supporre che l'ente comunale non possa assicurare l'assolvimento delle proprie funzioni. Inoltre, sottolinea il responsabile del Dipartimento per gli indirizzi politici finanziari della Fratellanza Massimo Bucchicchio, le previsioni di bilancio non rispondono ai principi della veridicità.